Gli altri segreti della lingua italiana per stranieri, un libro bilingue da leggere e ascoltare per imparare l'italiano in italiano di Antonio Libertino Parli già un po' di italiano. Perché ti sto chiedendo questo? Perché se ti va di ascoltare gli audio degli altri segreti della lingua italiana, hai bisogno di parlare già un po' di italiano, oppure di avere le traduzioni. Perché questo è l'unico audio della serie in cui parlerò in inglese. Gli altri audio saranno solamente in italiano e conterranno la lettura integrale del libro Gli altri segreti della lingua italiana. Perciò ho solo questa breve presentazione per dirti in che cosa consiste questo libro. Gli altri segreti della lingua italiana è un libro bilingue, scritto in italiano e inglese. Ed è anche un libro multimediale, perché potrai ascoltarlo in italiano grazie ai file audio che puoi ottenere come bonus gratuito. più di sette ore di italiano, che ho letto per te personalmente. In questo libro io comincerò da dove avevo lasciato nel primo volume della serie, I segreti della lingua italiana per stranieri. Beh, non partirò esattamente da quel punto, perché voglio che tu sia realmente motivato a parlare l'italiano molto bene. Perciò la prima parte è proprio il punto in cui io ti aiuterò a motivarti dal di dentro, non da me, ma da te stesso a parlare l'italiano molto bene. Perché? Perché è molto importante che tu sia davvero motivato e che trovi le tue personalissime ragioni per le quali vuoi parlare l'italiano molto bene. Non sono io che voglio parlare l'italiano perché io lo parlo già. Sono italiano. Sei tu quello che vuole parlare l'italiano molto bene e che deve trovare le giuste motivazioni interne per continuare a parlare questa lingua meravigliosa. Perciò la prima parte sarà dedicata a questo e ti aiuterà anche a contrastare dei potenziali ostacoli che potresti incontrare nel tuo percorso. Parlerò ancora e molto approfonditamente del concetto di cambio di identità, in modo che tu capisca veramente in cosa consiste. Mi è sembrato che fosse importante per me chiarire che questa nuova identità italiana, che è quella che io suggerisco ai miei studenti di creare, deve essere qualcosa che integra la tua vera identità e che ti aiuta a scoprire nuove cose in modo che tu abbia più scelte nell'apprendimento, usando questo mezzo. Nella seconda parte del libro troverai delle lezioni pratiche per aiutarti ad assorbire l'italiano con tutto il tuo cervello. Userò due metodi per aiutarti a farlo. Il primo è il metodo TPR, Total Physical Response. In pratica ti dirò di fare delle azioni e tu dovresti fare ciò che ti dico di fare. Perché? Perché se usi il tuo corpo mentre ascolti l'italiano, interiorizzerai e assorbirai veramente l'italiano. E poi ti aiuterò a parlare con il metodo TPRS, Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Con questo metodo ti racconterò delle storie da diversi punti di vista, in modo che tu interiorizzi anche la grammatica. E poi nella pagina dei bonus del libro troverai tante domande facili, in formato audio, relative a queste storie. E il tuo compito è quello di rispondere a queste domande il più velocemente possibile, in modo che attraverso la ripetizione automatizzi le risposte e parlare l'italiano molto bene diventerà per te automatico. Poi ti parlerò dello shadowing, così come dei tre modi diversi in cui io ti suggerisco di praticare. E poi sarò molto esplicito a proposito di quattro punti grammaticali di cui non ho scritto nel primo volume della serie. Ti parlerò delle differenze tra l'imperfetto e il passato prossimo, in modo che tu finalmente riesca ad assorbire il modo corretto di usarli. Ti parlerò poi dell'imperativo e di come usarlo, e poi delle similarità tra il futuro e il condizionale per quanto riguarda la loro struttura. Ci sarà poi una lunga storia ad accompagnarti per tutto il libro e la storia è lì per un motivo, in modo che tu riceva un messaggio molto importante e il messaggio è... beh, ti dirò solo una parte di questo messaggio. Tu puoi parlare l'italiano sempre meglio. È il mio obiettivo e che tu te ne renda conto. Spero che ti sia piaciuta questa presentazione e ti auguro il meglio nel tuo percorso di apprendimento della lingua italiana o di ogni altra cosa che tu imparerai nella vita. Perché imparare è meraviglioso. Imparare e usare, agire in base a quello che hai imparato, è qualcosa di divertente, di piacevole, di meraviglioso, perché ti aiuterà a crescere come una persona e a raggiungere tutte le cose che tu devi raggiungere nella tua vita. Perciò rilassati e goditi il viaggio. Grazie mille per aver ascoltato un audio degli altri segreti della lingua italiana per stranieri. Le trascrizioni e le traduzioni in inglese puoi trovarle in formato ebook e libro cartaceo nelle migliori librerie online. Grazie ancora. La musica di sottofondo è di Kevin MacLeod.